Pace bene a tutti, fratelli e sorelle Carissimi e benvenuti a questo nostro appuntamento quotidiano con la recita del Santo Rosario alla Scuola di San Pio da Pietricina Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e allo stesso San Pio tutte le intenzioni per le quali vogliamo pregare sempre in comunione spirituale con tutti coloro che si uniscono a noi attraverso Padre Pio TV oppure Internet in ogni parte del mondo Preghiamo anzitutto per gli ammalati vogliamo affidare al Signore in particolare colpiti dal coronavirus i loro parenti, medici, infermieri, personale sanitario volontari quanti si adoperano per alleviare le sofferenze e per guarire questi nostri fratelli infermi Affidiamo al Signore anche alcuni ammalati che ci sono stati segnalati in modo particolare Piera e Augusto dalla Svizzera Maurizio, Pasquale, Maria Grazia e Michele da San Giovanni Rotondo Sara e Jasmine dalla Toscana Maria da Barletta Giulia, 17 anni, data Ormina Roberta, Anna Maria da Balsorana Giorgio da Modena e tanti altri nostri fratelli ammalati Preghiamo anche per gli anziani le persone sole le famiglie in difficoltà quelle che vivono dei gravi lutti le persone in cerca di un posto di lavoro coloro che rischiano di perderlo a causa della presente pandemia Preghiamo per i carcerati, i pecatori e quanti vivono lontani da Dio e dalla Chiesa Preghiamo per i nostri benefattori e per quanti si affidano alle nostre preghiere Preghiamo per il Santo Padre Francesco il Papa Emerito Benedetto per il nostro Arcivescovo Franco per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa per la nuova evangelizzazione e per l'unità di tutti i cristiani Preghiamo per la casa sollievo della sofferenza opera di Padre Pio e per i gruppi di preghiera diffusi in tutto il mondo per gli sposi desiderosi di avere un figlio affinché per intercessione della Madonna delle Grazie di San Pio vedano finalmente esaudite le loro accorate preghiere Preghiamo ancora per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti dei religiosi delle famiglie per i missionari e le missioni per la conversione di tutti gli uomini a Dio per la pace e la giustizia nel mondo intero per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo per i numerosi profughi costretti ad abbandonare la loro terra e le loro abitazioni a causa della guerra delle persecuzioni o della fame preghiamo per coloro che in queste ore sono in viaggio affinché raggiungano felicemente la loro destinazione fine preghiamo per gli agonizzanti per i nostri cari defunti questo giorno vogliamo ricordare in modo particolare il nostro caro Padre Marciano preghiamo anche secondo le nostre intenzioni quelle di tutti i pellegrini che visitano il nostro santuario oggi mediteremo i misteri del dolore nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amén o Dio vieni a salvarmi Signore vieni presto e mi aiuto gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli amén o Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Santa Maria delle Grazie prega per noi San Pio da Pietricina prega per noi Ave 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 Maria Ave 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 Maria Nel primo mistero del dolore contempliamo la preghiera e l'agonia di Gesù nell'orto del Gezzemani dal Vangelo secondo Matteo allora Gesù andò con gli undici in un podere chiamato Gezzemani e disse loro sedetevi qui mentre io vado là a pregare e presi con sé Pietro e i due figli di Zevedeo cominciò a provare tristezza e angoscia e diceva loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate col me andò un poco più avanti cadde faccia a terra e pregava dicendo Padre mio se è possibile passi da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu dagli scritti di San Pio da Pietricina procura di conformarti sempre e in tutto alla volontà di Dio in ogni evento e non temere questa conformità è la via sicura per arrivare al cielo preghiamo o Dio onnipotente nella sofferenza nei momenti bui della nostra vita non abbandonarci e aiutaci ti preghiamo affinché per intercessione della Vergine Maria consolatrice degli afflitti e di San Pio da Pietricina possiamo fare sempre la tua santa volontà ed essere perseveranti e saldi nella fede per Cristo nostro Signore Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia è il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia è il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia è il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Santa Maria delle Grazie prega per noi San Pio da Pietricina prega per noi Ave 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 Maria Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagelazione di Gesù alla colonna nel pretorio di Pilato dal Vangelo secondo Marco Ed essi di nuovo gridarono, crocifiggilo Ma Pilato diceva loro, che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte, crocifiggilo E Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso Dagli scritti di San Pio da Pietricina Sappiate soffrire tutto cristianamente E non temete che nessuna sofferenza, per quanto basso ne sia il suo motivo Resterà senza merito per la vita eterna Confidate e sperate nei meriti di Gesù E così anche l'umile argilla viverrà oro finissimo Da risplendere nella reggia del Monarca dei Cieli Preghiamo O Dio Onnipotente, ti supplichiamo Di darci la forza per intercessione di Maria, Madre ammirabile e di San Pio da Pietricina Nell'accettare e perdonare le ingiustizie, le calunnie, i soprusi e le prepotenze Per Cristo nostro Signore Ammè Padre nostro che sei nei Cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo, così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo sello Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo sello Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo sello Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo sello Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne Adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Ave Maria, ma pequenina e grazia, il Signore è con te Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con ti Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine e oltraggiato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlato, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano, salve re dei giudei. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina Tutta la vostra vita si è spesa nella rassegnazione, nella preghiera, nel lavoro, nell'umiltà, nel rendere grazie al Buon Dio. Se vi avverrà di sentire di ridestarsi in voi l'impazienza, ricorrete subito alla preghiera. Considerate che stiamo sempre alla presenza di Dio, a cui dobbiamo rendere conto di ogni nostra azione, buona o cattiva. Preghiamo. O Dio Onnipotente, aiutaci per l'intercessione di Maria Vergine Clemente e di San Pio da Pietrelcina a riconoscere le nostre fragilità umane e a sperimentare, attraverso il sacramento della riconciliazione, la Tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amén. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane in quotidiano e rimetti a noi i nostri debi, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Glorie al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amén. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietricina, prega per noi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nel quarto mistero del dolore, contempliamo Gesù, condannato a morte, carico della croce, che sale al Calvario. Dal Vangelo secondo Giovanni, Pilato consegnò Gesù ai giudei, perché fosse crocefisso. Essi presero Gesù, ed egli portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Dagli scritti di San Pio da Pietricina, Il Signore non verrà mai in meno nelle sue promesse, «Non temere, io ti farò soffrire, ma te ne darò anche la forza, mi va ripetendo Gesù. Desidero che l'anima tua, con quotidiano e occulto martirio, sia purificata e provata. Non ti spaventare, se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care, di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amor mio e che io mi sono adoperato per proteggerli. Quante volte, mi ha detto Gesù poc'anzi, mi avresti abbandonato, figlio mio, se io non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare e io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. Preghiamo. O Dio Onnipotente, aiutaci, ti supplichiamo, affinché per intercessione della Madre tua e Madre nostra e di San Pio da Pietrelcina accettiamo con cuore suave e leggero la croce che tu vorrai donarci. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, oggi ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, Sampio da Pietricina, prega per noi, Ave Maria. Ave Ave, Ave Maria. Nel quinto ed ultimo mistero del dolore, contempliamo Gesù, che agonizza e muore alla presenza della sua afflittissima madre. Dal Vangelo secondo Giovanni Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava disse alla madre, donna ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dagli scritti di San Pio da Pietrecina Ricordati e imprimiti bene nella mente che il Calvario è il monte dei Santi ma ricordati anche che dopo salito il Calvario, piantatami la croce espirata su di essa si ascenderà immediatamente ad un altro monte che si denomina Tavor, la Gerusalemme celeste. Ricordati che il patire è breve ma la ricompensa è eterna. Preghiamo O Dio Onnipotente ti supplichiamo di aiutarci per l'intercessione di Maria, madre del crocifisso e di San Pio da Pietrecina ad accettare il peso della croce perché essa non opprime e se il suo peso ci fa vacillare, la sua potenza ci solleva e ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amén. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli, nei secoli. Amén. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi peccatori. San Pio da Pietriccina, prega per noi peccatori. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve Regina, mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Salve Regina, verguta, da tua 먹i. Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.